Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Sofì Codegoni e Alessandro Basciano si sposano. A quanti hanno criticato la presenza di troppi influencer alla 79 edizione della mostra del cinema di Venezia? Gli ex vipponi hanno risposto prendendosi la rivincita e monopolizzando il red carpet, con una proposta di matrimonio da favola all'ombra del leone di San Marco. Già nella casa del grande fratello Vip, i loro due cognomi erano stati fusi in Basciagoni, alimentando l'idea che fossero già inseparabili. Adesso che anche la proposta di matrimonio e l'anello sono arrivati la coppia sembra pronta per una nuova vita insieme. Mentre sono alla ricerca di una casa a Milano, Sofì e Alessandro, che peraltro già convivono a Roma, hanno deciso di compiere il grande passo e fare le cose sul serio. Non è ben chiaro quanto la Codegoni sapesse. Certo l'emozione è stata grande nel sentirsi fare la proposta in ginocchio sul red carpet, mentre gli scatti dei fotografi illuminavano la serata in laguna. Sei pazzo e io ti amo da morire ha scritto la ventunenne, che con il suo carattere forte, deciso, ma anche molto dolce, è riuscita a vincere la diffidenza di Alessandro e a farlo innamorare di lei. E quale città migliore di Venezia per dichiarare al mondo i propri amici?